Amici, il 16 dicembre è quasi arrivato e questo vuol dire che è quasi arrivato il nuovo episodio di Star Wars E prima che voi andiate a vederlo nelle sale, noi vi proponiamo 20 cose sulla saga di Star Wars che forse non conoscete Pronti partenza, via! Dennis Lawson, che interpreta la parte di Wedge Antilles, è in realtà lo zio di Ewan McGregor nella vita reale Yoda doveva originariamente essere interpretato da una scimmia mascherata Alec Guinness, l'attore che interpreta l'anziano Ben Kenobi, prima di lavorare al film pensava che Star Wars fosse una favoletta spazzatura La figlia di George Lucas, Katie, interpreta la danzatrice Twilight nell'episodio 2 Il nome in codice di episodio 4 era Blue Harvest e sarebbe dovuto essere un horror Harrison Ford, l'attore che interpreta Han Solo, fu pagato solo 10.000 dollari per episodio 4 Una Nuova Speranza Anakin Skywalker ha 6 dei 9 criteri diagnostici per il disturbo della personalità, ben più di quelli necessari per diagnosticarla Il dispositivo di comunicazione di Qui-Gon Jean in realtà è un rasoio Gillette da donna leggermente modificato Peter Kershing, ovvero il governatore Tarkin, si trovava talmente scomodo con i suoi stivali che recitò spesso in ciabatte È per questo motivo che non si vedono mai le sue gambe E T fa parte dell'universo di Guerre Stellari Infatti, in una scena all'interno del Senato Galattico, possiamo vedere una delegazione di questa specie aliena Samuel L. Jackson sostiene che sulla sua spada ci fossero incise le parole Bad Motherfucker Il suono del TIE Fighter è stato ottenuto mescolando il barrito di un elefante al suono di un'auto che stride sull'asfalto bagnato La frase, ho un brutto presentimento, viene recitata in ogni film della serie Tupac Shakur aveva partecipato ai casting per il ruolo di Mace Windu La nave spaziale che fugge dallo Star Destroyer all'inizio dell'episodio 4 era in realtà il progetto iniziale del Millennium Falcon Il ruolo di Obi-Wan fu inizialmente offerto a Toshiro Mifune, attore giapponese che recitò in Rashomon e nei Sette Samurai Ma rifiutò perché pensava che il film sarebbe stato di qualità scadente Ahmed Best, l'uomo all'interno del costume di Jar Jar Binks, appare una volta senza costume sullo sfondo di una scena I vestiti del cacciatore di Taiye Bosk sono riciclati da una tuta spaziale della serie inglese Doctor Who Durante le scene di combattimento, Ewan McGregor continuava a fare i suoni della spada laser con la bocca E questi ovviamente sono stati rimossi in post-produzione Tutti i film della saga di Guerra Stellare sono usciti a maggio, mese in cui è nato George Lucas Invece l'ultimo film della saga, ovvero Star Wars e Risveglio della Forza, uscirà il 16 dicembre al cinema Mi raccomando non perdetevelo e mi raccomando non perdetevi i nostri video sul canale di Screen Week TV Seguiteci su tutti i social e arrivederci e tante belle cose